Sono Filippo Dalligna e ho partecipato al corso Lancia il tuo libro. Denise e il team dei libri di impresa sono un'organizzazione incredibile che ti permettono di vedere prima che le cose accadano quello che succederà nel futuro. Lancia il tuo libro è esattamente questo, ti permette di vedere che cosa dovrai fare, di pianificare tutto quello che dovrai fare per fare in modo che il libro che hai creato, quel tesoro che tu vuoi consegnare poi al mondo, arrivi a destinazione nel modo più efficace. E quindi due cose che ho imparato sono che devi uscire in qualsiasi modo ma lo devi fare e che il libro non è solo il libro ma ci sono tutta una serie di azioni intorno che devono essere fatte. Sono tante, sono complicate e quindi avere qualcuno che ti guida in questo passaggio qua è fondamentale, sia dal punto di vista della pianificazione che dei contenuti. Quindi grazie a Denise, grazie a tutto il team dei libri di impresa.